SIGNOR LEONARDO SIGNOR LEONARDO SIGNOR LEONARDO Cosa? Ho detto di pure Ha detto di pure Eh ho capito Ha capito Io sono responsabile del restauro, della manutenzione e di tutta la parte tecnica di questo garage Che per il 51% è mio E l'altro 51% è mio Cosicché io e te saremo proprietari al 102% di questo garage Esatto Vedi che non capisci un tubo di amministrazione Perché io mi intendo della parte tecnica, del restauro e... Per la manutenzione E quindi quando io metto il veto sull'uscita di una macchina è un veto E allora vuoi vedere che adesso io prendo un martello e ti spacco tutto il 51% della macchina? Lo vuoi vedere? Dai ragazzi non fatti così Vuoi un momento eh? Tu che quota hai nella società? Nessuna Va bene allora puoi rimanere Senti quello che voglio dirti è questo Io posso anche fare come dici tu Il mio è un piccolissimo particolare Che questa macchina di qui non esce E c'era bisogno di mettermi le mani addosso Alla stare la voce Alla stare la voce